E' molto importante perché permette non solo per l'importanza nella vita di ognuno che riveste lo sport, ma proprio perché permette ai ragazzi di uscire da quello che è il loro ambiente dove passano tantissime ore della loro giornata e permette di uscire di andare in un ambiente comunitario, vissuto anche da altre persone che normalmente loro non incontrano e quindi è un'occasione per poter avere degli scambi e relazionarsi anche con gli altri che difficilmente hanno. Sono eccezionali e per me e per loro penso che sia una grandissima esperienza, una grandissima gioia partecipare tutti i martedì all'allenamento che li rende felici e li fa un po' sbagare dal concetto dell'Istituto. Penso che sia molto importante per noi che ci relazioniamo e per loro che si sbagano. Ha permesso a delle persone che difficilmente erano uscite da Arezzo di andare proprio oltre l'oceano, quindi prendere un aereo, cosa che non avevano mai fatto nella loro vita. e di fatti da queste esperienze sono tornati cambiati, proprio tutte altre persone. Ci diverto, è un passatempo. Lo sport, lo sport più bello che mi piace di più. Eh, stare tutti insieme, divertirci, fa casino. Perché senza uno sport non si può vivere. A me il calcio, il calcio, lo sport per le cose lì non mi piace per niente. Grazie.